Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in mare davanti a Sicilia e Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata, alle ore 5.23. Dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel mar Tirreno Meridionale. Davanti alle coste di Sicilia e Calabria. L'evento è stato localizzato a una profondità di 158 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose. Grazie a tutti.